Su iniziativa dell'ente porto di Giulianova dell'amministrazione comunale della Giulianova Patrimonio si sono riuniti per la prima volta intorno ad un tavolo di lavoro i rappresentanti dei motopescherecci pugliesi presenti nel porto di Giulianova ed una rappresentanza della marineria giuliese oggi dislocata nel porto di San Benedetto del Tronto al fine di tracciare una rotta comune per la nascita di un organismo consortile per la futura gestione del mercato ittico giuliese. Questo rilancio passa attraverso la condivisione di quest'idea con gli operatori che poi dovranno andare a fare attività all'interno del mercato. Per la prima volta nella storia siamo riusciti a mettere intorno a un tavolo gli armatori e i comandanti delle imbarcazioni pugliesi che sono presenti nel porto di Giulianova, sono 12 imbarcazioni. Li abbiamo messi al tavolo intorno ad operatori della pesca giuliesi che oggi sono nel porto di San Benedetto del Tronto che hanno dimostrato che c'è questa possibilità di rientrare a Giulianova e far confluire tutto il pescato all'interno del mercato ittico. Il progetto tiene conto di un piano di rilancio che consenta alla struttura mercatale giuliese di essere un vero punto di riferimento con il pesce azzurro che diventerà protagonista nelle trattative di compravendita. Il mercato ittico di Giulianova potrebbe diventare il mercato ittico di riferimento per il pesce azzurro, il pesce azzurro che ruota intorno anche a un marchio che è dell'OP Abruzzo Pesca per organizzazione dei produttori, un marchio con il nome del principe azzurro dell'Adriatico che appunto raggruppa i produttori di questo prodotto, i pescatori di questo prodotto e potrebbe diventare appunto un punto di riferimento di tutto l'Adriatico per il pesce azzurro, il porto di Giulianova. Oggi il mercato ittico di Giulianova a causa della scarsità del prodotto che transita dal mercato ha delle perdite di gestione non indifferenti. Questo permetterebbe al comune di Giulianova attraverso Giulianova Patrimonio di risparmiare queste somme che verrebbero assorbite dal consorzio, dal costituzione del consorzio, ma non dovranno farsi carico, il consorzio non si dovrà far carico di queste somme, ma semplicemente il consorzio riuscirà a mantenersi in piedi economicamente attraverso l'apporto di tutto il pescato che rientra nel porto di Giulianova.